Slitta per la seconda volta di fila a causa della pandemia la tornata elettorale delle amministrative. Pesa la paura dei contagi, solo nel Lazio sono quasi 3 milioni gli elettori chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali. Per ora non c'è una data ma solo una finestra che va dal 15 settembre al 15 ottobre. In autunno andranno al voto 100 comuni del Lazio, tra questi anche due capoluoghi di provincia, Roma e Latina. 11 centri con più di 15 mila abitanti in cui è previsto il sistema maggioritario a doppio turno, ovvero nel caso in cui nessuno dei candidati raggiungesse il 50% più uno dei voti, si andrebbe automaticamente al ballottaggio. Le urne si apriranno soprattutto nella provincia di Roma, ben 38 comuni al voto, non solo la capitale ma anche altri grandi centri, Bracciano, Marino, Mentana e Frascati. Le elezioni si svolgeranno in due giornate, domenica e lunedì la data più probabile è quella del 10 e 11 ottobre. Lo slittamento consentirà anche di sciogliere alcuni nodi politici come quello romano, come si comporteranno PD e 5 Stelle quasi alleati in regione nella corsa al Campidoglio. Di certo avere più tempo va bene soprattutto al Partito Democratico e al centrodestra, ancora alla ricerca di un nome per palazzo senatorio.